Ema Greene, chiamata al metro di o88, primo salto per lei, per proseguire le qualificate per la finale, preso P, Demetri, Greccia, la seconda del salto quinto, la finale è iniziata in un uoco con 6,50, 6,50 per carri e una flutte, 6 e per nani, 3 e per portogallo, 6,50, 1,5, 1,5, 2,5, 2,5, 3,5, 2,5, 3,5, 3,5, 4,5, 3,5, 4,5, 4,5, 4,5, 4,5, 4,5, 4,5, 5,5, 4,5, 4,5, 4,5, 4,5, 5,5, 4,5, 5,5, 6,5, 6,5, 6,5, 5,5. Grazie a tutti.